Chi va alle cucine popolari non può essere davvero pericoloso per nessuno, quindi l'idea che ci sia una sorta di schedatura preventiva non si capisce bene chi sta da chi, perché non esiste quello che è stato ventilato, che fosse addirittura richiesta dalle stesse cucine popolari, ha lasciato la città davvero senza parole. C'è stato un messaggio molto forte con i gesti, non con le parole del Vescovo che il giorno dopo è andato a mangiare a pranzo alle cucine popolari e questo è un fatto importante che riconcilia anche la città rispetto al cattivo esempio dato dal sindaco. E' una pagina insomma, speriamo si giri in fretta perché invece come peraltro sembra riconoscere adesso anche lo stesso sindaco, le cucine popolari vanno aiutate di più a fare questo servizio e c'è stata una vasta mobilitazione anche di associazioni eccetera, sostegno proprio di questa realtà così importante, così vitale, così utile alla città.